bella ragazzi, e da oggi farò un piccolo trucco di magia allora, pensate, anzi no, è un trucco di mentalismo pensate un numero da 1 a 10 beh, moltiplicatelo per 2 ecco, aggiungete 6 eh, fate diviso 2 e levate al numero che avevate pensato per primo e scommetto che vi esce 3 beh, bella ragazzi, era solo una magia alla prossima, ciao